Questa è la più importante, assolutamente, perché una l'abbiamo già messa dietro le spalle, poi a Vellino ci pensiamo, ma ci sono pochi giorni, veramente pochi giorni, anche perché un derby comunque, anche se io ho tentato di stemperare per quanto riguardava la mia squadra, però ho carica di tensione, e quindi è comunque una spesa, già nella settimana che precede, più la partita e dopo pochi giorni giocare una partita così importante, c'è da recuperare velocemente le energie mentali, nervose, e sicuramente ci sarà del turnover. Birk è in crescita, in continua crescita, in continua crescita io ho dato fiducia, ma io cerco di dare fiducia, i giocatori se non hanno fiducia non possono far bene. Siamo in tanti, purtroppo non riesco a darla a tutti, perché poi le chiacchiere le porta via il vento, i giocatori vogliono il campo, e so che tutti non posso accontentare, però cerco di andare a prendere il meglio da tutti. Sicuramente su Birk è stato fatto un buon lavoro da parte di tutti, ma principalmente da parte sua, si è calato nella nostra realtà. Io ho dato un mio piccolo contributo, ma il giocatore si è calato nel nostro calcio, adesso lo sente suo, e quindi è cresciuto. Qui alla fine ogni partita è una storia a sé, perché è una partita che ti può dare e ti può togliere. Noi, ripeto, siamo stati bravi e non era facile rialzarci dopo due battute d'arresto brutte, brutte perché hanno avuto natura diversa, ma brutte. Adesso ci siamo rimessi in piedi e ora tocca a noi non mollare niente, assolutamente. Però io credo che le porte in B sono aperte a tutti perché basta poco, basta due battute d'arresto che vai fuori, una. Quindi io credo che noi dobbiamo pensare a noi, dobbiamo pensare a far punti. Io faccio pochi calcoli in questo momento, credetemi, ma perché lo so, c'è da guardare in casa nostra più che in casa degli altri. Questa è la cosa più importante.